è stata un'altra domenica veramente scoppiettante emozionante in serie a piena di gol 7 a reggio emilia 6 a parma 4 a san siro dopo che ce n'erano stati 6 il sabato a roma fra lazio e atalanta a questo punto io ve lo dico non è più una sensazione è quasi una certezza che la serie a abbia dato una svolta che avrebbe dell'epocale perché assistiamo a partite completamente diverse rispetto alle abitudini dei tempi recenti ma non solo partite che non sono mai chiuse partite in cui può sempre succedere di tutto partite in cui tutti cercano di proporre qualcosa prima che di contrastare di conseguenza ci divertiamo parecchio e di conseguenza la serie a diventa il giardino dei grandi bomber come è stato effettivamente per tutto questo weekend se parliamo di gol se parliamo di partita mai chiusa se parliamo di emozioni se parliamo di bomber non possiamo non partire dal match delle 12 e 30 della domenica di serie a dalla vittoria dell'inter 4 a 3 in casa del sassuolo all'inter dopo i due stop con barcellona e juventus serviva prima di tutto una cosa sola il successo i tre punti e i tre punti sono arrivati sono arrivati anche dopo una prestazione veramente molto significativa per 70 minuti e poi per venti un momento di callo di difficoltà che ha fatto imbufalire antonio conte tant'è che non si è sentito molto bene dopo la partita e non si è presentato a parlare con noi nel post match questo dalla dimensione di come antonio conte abbia recepito male il callo della squadra che ha rischiato di mettere a repentaglio un risultato fondamentale un risultato irrinunciabile analizziamo nella partita dell'inter partendo ovviamente dai due volti copertina perché non ce ne può essere uno o meglio ce n'è uno ma è formato da due l'attacco dell'inter lukaku lautaro anche in questo caso per me è abbastanza una conferma ve ne parlavo fin da quest'estate io sono convinto che questa coppia non solo sia perfettamente costruita molto ben integrata ma sia anche formata da due giocatori di altissimo profilo a partire da lautaro martinez lautaro martinez cresce di settimana in settimana a 22 anni ha già il profilo assoluto di un giocatore di massimo livello e continua a superare gli step che comunque si ritrova ancora davanti perché è chiaro come non sia al massimo del potenziale come debba ancora completare la propria maturazione migliorare diverse situazioni però già oggi è un giocatore effettivo un giocatore contundente fin da subito lautaro da quando è arrivato all'inter ha dimostrato di avere quello status dei grandi perché perché ha messo il proprio timbro nelle partite grandi ricordate l'anno scorso contro napoli nel derby contro il milan quest'anno ha segnato al barcellona ha segnato alla juventus quel che gli mancava era di essere determinante anche nelle partite tra virgolette normali e al mapei stadium di reggio emilia lautaro ha dato una dimostrazione decisamente roboante del fatto che anche in una partita ripeto tra virgolette normale lui diventa un fattore decisivo favorito anche dall'eccessiva apertura soprattutto nel primo tempo del sassuolo è stato chiamato a fare un uno contro uno costante con marlon e lo ha bullizzato ha segnato dopo un minuto e quattro secondi il gol più veloce di questa serie a tra l'altro un gol bellissimo un gol non solo da attaccante di razza ma anche da grande stoccatore da punta tecnica perché quel destro infilato sul secondo palo è stato un pezzo di grande bellezza poi gliene hanno annullato un altro si è procurato il rigore realizzato da lukaku ha segnato in prima persona il rigore che sembrava chiudere qualsiasi tipo di discorso e invece gli ultimi 20 minuti sono stati piuttosto rocamboleschi in più ogni volta che ha preso palla ha creato qualcosa ha creato delle occasioni ha creato delle scintille ha creato delle aspettative partidasso quello di lautaro martinez partita in cui si è visto però ancora quello che deve migliorare ovvero l'efficacia sottoporta nella misura in cui se un attaccante del genere in una partita può segnare sei gol ne deve fare sei o quantomeno cinque perché lautaro con quella palla calciata fuori al dodicesimo minuto che poteva chiudere i conti e poteva regalargli una doppietta velocissima ha comunque dimostrato che qualche occasione ancora se la mangia ma altrimenti sarebbe già uno da 40 gol a campionato e sarebbe fuori da ogni normalità per un 22enne deve migliorare un po di cose però in questo momento lautaro martinez è un valore indiscutibile e imprescindibile dell'inter oltretutto il partner perfetto per giocare con romelo lukaku ne abbiamo parlato nel corso della sosta io mi sono messo a ridere quando ho sentito certe parole accostate a lukaku crisi giocatore al di sotto delle aspettative lukaku è un grande attaccante sotto tutti i punti di vista è un attaccante che è arrivato alla fine del mercato con una fisicità particolare non ha fatto la preparazione ha bisogno di ritmo ha bisogno di ambientamento ma lukaku in primis mi piace per l'atteggiamento con cui è arrivato in italia è un giocatore molto intelligente oltre che molto forte ed è una persona estremamente determinata ad essere non solo un totem dell'inter ma anche una guida per il gruppo per questo c'è un'identità totale con conti avete visto l'abbraccio effusivo dopo il suo primo gol un gol che lo ha davvero stappato perché nella prima mezz'ora comunque molto buona dell'inter lukaku non era sembrato totalmente in palla tant'è che qualche fantasma alleggiava un paio di stop sbagliati una scarsa partecipazione poi gli è arrivato il pallone giusto ha dominato fisicamente su peluso e ha fatto il primo dei suoi due gol i gol in campionato di lukaku sono già cinque per cui è un bottino direi tutt'altro che modesto in più ripeto questa mentalità questa forza anche trascinante forza anche temperamentale sono un valore importantissimo per l'inter altro valore che mi è sembrato importante quello dato da barella in assenza di sensi barella ha assunto la responsabilità di essere il primo punto di riferimento del centrocampo fatto salvo mbrozovic che nei suoi posizionamenti da vertice basso è sempre la brugola con cui l'inter definisce le proprie distanze definisce i propri tempi ma barella ha giocato una buona partita contro il sassuolo ha lottato perché è un giocatore di lotta ha cercato di mettere dei fattori tecnici e ha conquistato il rigore del 4 a 1 con un bel inserimento a rimorchio detto tutto questo sensi manca e qua arriviamo al rovescio della medaglia al lato oscuro della luna presentata dall'inter a reggio emilia nel momento in cui la squadra ha pagato un filino di calo fisico si è sentito un po stanca doveva gestire la partita una figura come sensi a cui dare la palla metterla in banca puntare sul possesso magari anche sul prendere qualche calci punizione in più è una figura fondamentale ed è una figura che nel centrocampo dell'inter può offrire solo l'ex giocatore del sassuolo senza di lui ci sono meno possibilità di fare questo tipo di gestioni e qua arriviamo a quello che rimane il grande problema dell'inter io credo che questi cali nel finale visti contro il barcellona contro la juve anche contro il sassuolo non siano tanto dovuti a un fattore fisico o meglio ci sta che la condizione non sia perfetta in questa fase comunque ancora iniziale della stagione ma non ha problemi fisici l'inter l'inter ha un problema di profondità di rosa e questo è piuttosto chiaro conte l'ha detto anche dopo la partita con la juventus lo ha detto in tutti i modi conte ha usato un'espressione qualche settimana fa ha detto fin qui ho dovuto tirare la macchina sempre a 200 all'ora infatti l'inter è uno squadrone nel momento in cui va a 200 all'ora quando deve inserire la velocità di crociera o quando deve chiamare in campo delle alternative allora l'inter scende immediatamente di livello perché ha una serie di giocatori da massimi obiettivi a una serie di alternative che non sono agli stessi livelli purtroppo anche biraghi che ha avuto un'occasione da titolare al posto di asamoah non ha giocato una grandissima partita è stato un suo errore un suo doppio errore quello che ha portato al gol di berardi dell'uno a uno ha avuto una palla per fare gol su un bel cross di candreva e l'ha schiacciato troppo di testa è un filino in difficoltà biraghi ma credo che in questo caso sia un'alternativa che può arrivare a livello del titolare dall'altra parte invece il subentro di lazaro è stato ancora una volta drammatico è entrato lui l'inter si è sgonfiata ha perso subito un paio di palloni un giocatore in difficoltà un giocatore che ha bisogno evidentemente ancora di lavorare molto per entrare in questo circolo davanti politano è entrato con la solita mentalità con la solita elettricità ma ovviamente politano non può essere lautaro martinez insomma i cambi nell'inter sono un problema e questo ci dice che sicuramente antonio conte vorrà qualcosa in più dal mercato di gennaio perché questa è una gran bella squadra un gran bel progetto di squadra è una formazione che regala un calcio estremamente produttivo e anche estremamente piacevole è chiaro che per completare l'opera e per antonio conte non esiste il lungo periodo esiste sempre l'adesso esiste sempre il vincere tutte le partite per completare l'opera ci vuole probabilmente qualche valore in più anche perché poi durante una stagione possono capitare gli infortuni come sta succedendo adesso e quindi possono arrivare delle problematiche problematiche che non sembra aver risolto il milan con il cambio d'allenatore attenzione però solo se giudichiamo il risultato perché ovviamente il debutto di pioli con il 2 a 2 con il lecce in casa non può essere archiviato come un risultato soddisfacente però io penso che essendo solo all'ottava giornata ed essendo la classifica già un filino impattante visivamente ma comunque estremamente il milan di adesso e tutto il mondo milan di adesso debba provare a trovare la forza di andare oltre il risultato perché oggi il risultato è ancora gestibile ancora recuperabile proprio pioli con l'inter ricordate fece un girone di ritorno incredibile arrivò a scalare la classifica adesso le distanze sono compatte e c'è tanta strada davanti qualche punto in più da recuperare può non essere un problema quello che invece può essere un problema è l'esposizione le dimostrazioni date dalla squadra per questo giampaolo è stato messo in crisi ed è stato addirittura esonerato dopo una vittoria per questo la partita del milan contro lecce può offrirci delle sfaccettature anche piuttosto interessanti nonostante appunto sia stato solo un pareggio interno contro una neopromossa particolare alla quale vanno sempre rivolti dei meriti perché vedere una squadra che arriva da un doppio salto dalla c alla a e che si presenta nel massimo campionato con questo tipo di filosofia con questo tipo di modo di giocare a calcio è un qualcosa che tornando al discorso iniziale è nuovo per il calcio italiano ed è molto molto positivo milan il primo tempo è stato veramente un buon primo tempo anche se chiuso solo sull'uno a zero però si è vista una squadra vogliosa una squadra vivace una squadra reattiva alle richieste dell'allenatore e qua c'è un grande stacco rispetto al milan che si vedeva in campo nelle prime partite con giampaolo allenatore questo mi dà la sensazione che davvero ci fosse un problema di comunicazione un problema di identità e di unità di intenti fra allenatore squadra perché sono bastate due settimane con pioli e le risposte proprio anche a livello visivo a livello di immagine date dai giocatori e dalla squadra nella sua globalità sono state completamente diverse un milan così continuo così frizzante così anche stimolato non si era mai visto non si era mai visto neanche nei migliori momenti della inizio stagionale con giampaolo in panchina oltretutto pioli ha portato subito delle correzioni e anche in questo caso parlando dopo la partita il nuovo allenatore del milan ha preannunciato che ci saranno delle soluzioni studiate ad hoc per ogni avversario e per ogni situazione per ogni appuntamento e anche questo è un qualcosa di molto diverso rispetto a un tecnico che invece in teoria avrebbe dovuto avere la propria linea di azione e modificarla mai o quasi mai cosa abbiamo visto di nuovo nel milan dal punto di vista proprio dello sviluppo di squadra abbiamo visto questa impostazione con tre abbiamo visto le mezze ali invertite con pacchetta piazzato sul centro destra e che si sul centro sinistra abbiamo visto una costruzione del gioco soprattutto sulla tre quarti abbastanza differente perché l'idea è stata quella di associare il più possibile i giocatori creativi quindi pacchetta da quella parte per andare vicino a suso che rientra sul sinistro cialanoglu dall'altra schierato come finto esterno sinistro del tridente avvicinarsi a un attaccante mobile guizzante come raffaele ao per questo il milan ha fatto meglio ci sono state soluzioni più adatte allo sviluppo del gioco per questi giocatori poi il problema qual è stato è che il gol è stato uno solo nel primo tempo quando potevano essere di più tra l'altro un gol molto bello realizzato a cialanoglu c'è la complicità del portiere però il lavoro in area di rigore e anche la violenza del destro sul primo palo sono delle belle cose portate da un giocatore spesso contestato un giocatore che credo debba anche convincersi del fatto che può essere decisivo costantemente per questa squadra fin qui non lo è stato con continuità però ha già segnato un paio di gol quest'anno a san siro l'anno scorso ci ha messo molto di più a trovare la sua prima rete per cui cialanoglu secondo me rimane un valore da considerare soprattutto in questa veste soprattutto messo un po più vicino alle zone in cui può definire a me non è dispiaciuto neanche pacchettà è chiaramente il giocatore che può accendere la luce lì in mezzo è chiaramente quello che può essere un punto di riferimento tecnico che può maneggiare il pallone che può anche regalare momenti di sussulto a san siro con le sue veroniche con i suoi numeri non mi è dispiaciuto neanche raffaele ao le ao nei primi dieci minuti ha bruciato viva la difesa del lecce poi è chiaro è un ragazzo molto giovane deve migliorare nella finalizzazione ma questo rimane secondo me a livello assoluto uno dei potenziali più alti della squadra persino solso è sembrato un filino più acceso ha provato la conclusione andando sul sinistra insomma bello il milan del primo tempo doveva segnare di più il milan della ripresa invece è stato un milan diverso è vero un riscontro molto importante è il fatto che si sia sbloccato piontek piontek è andato in panchina la prima di pioli dopo che anche con la nazionale non era andato bene rischiava di avere veramente addosso un fardello psicologico ai limiti dell'insostenibile è entrato sul primo e unico pallone che ha avuto in area di rigore ha fatto gol gol molto importante sta bella anche l'immagine perché uno di quelli che ha abbracciato e esultato di più con piontek dopo il gol è stato raffaele au dalla panchina bella questa immagine testimonianza di un gruppo che è unito e ha voglia di lavorare per uscire da questa situazione però piontek si è sbloccato sì ma nel momento in cui è uscito raffaele au ed è uscito anche paquetà giocatori che non avevano dominato la partita e che erano anche un filo in flessione sul piano dell'autonomia atletica però nel momento in cui sono uscite una punta che gioca con la squadra e che si muove e che fornisce possibilità anche di dialogo e di mantenimento del possesso nel momento in cui la squadra ne ha bisogno e un centrocampista che come vi dicevo prima catalizza il gioco maneggia il pallone e accende la luce il milan non ha più avuto in mano la partita non è più riuscito a tenere palla non è più riuscito a gestire il lecce ed è stato colpito è stato colpito alla fine con una gran prodezza balistica di un terzino secondo me meritevole di elogi come calderoni perché è un giocatore non molto conosciuto a livello di grande calcio di massimo campionato ma è un terzino che ha sempre fatto il suo molto bene in qualsiasi categoria e che ha questa capacità di tiro da fuori che anche lui deve considerare forse di più ha già segnato un paio di gol in questa serie a però ricordo un'intervista di qualche tempo fa in cui lui proprio diceva sì devo convincermi anche essere un po più coraggioso a provarlo un po di più il tiro sì 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 convinciti calderoni perché è un gran bel tiro e poi risolvere delle situazioni e dei problemi l'altro problema significativo del milan e anche questo mi sembra di ripeterlo da un po di tempo è nel ruolo del terzino destro calabria cinque partite due espulsioni conti ha avuto una grande occasione di sostituirlo e non è andato bene ha causato il calcio di rigore dell'uno a uno un'altra prodezza di donna ruma poi vanificato dal teppin di babacar e anche calderoni arriva a calciare per il gol del 2 a 2 in pieno recupero in una zona in cui andava tamponato e la zona è comunque più o meno quella sul terzino destro il milan non ha nessun tipo di garanzia ed è un problema mentre dall'altra parte teo hernandez mi sembra che non stia dicendo stia gridando di partita in partita di essere stato un grande acquisto il milan ha dato delle cose positive però adesso ha bisogno di risultati perché ripeto si può pensare di aver la forza di non guardare prima di tutto il risultato e la classifica in questo momento se però poi ci sarà e ci sarà a molto breve la possibilità di fare un filotto e di scalarla questa classifica perché altrimenti poi la situazione rischia di incistirsi e a tal proposito la prossima partita è molto molto importante perché il milan sfiderà la roma ed è importante per il milan ma è importante anche per questa incredibilmente incerottata roma protagonista dell'unica partita brutta diciamo del weekend di serie a l'unica partita che non ha presentato gol e non ha fatto vedere praticamente occasioni ma in questo momento il risultato è la cosa meno importante per la roma perché sta vivendo veramente un'epidemia di infortuni drammatica ha perso altri due giocatori ha perso un giocatore fondamentale come cristante subito e pare che le notizie non siano per nulla buone potrebbe rimanere fuori dei mesi il regista trovato da fonseca si è fatto male anche kalimic ha dovuto entrare gecko che non era chiaramente in condizione di sostenere la partita è un grosso problema quello delle indisponibilità alla roma per cui in questo momento è quasi una squadra ingiudicabile perché il calcio che vuol fare fonseca non può essere applicato con questa lunghissima lista di assenze mentre è assolutamente già giudicabile l'impatto avuto da ranieri alla samdoria perché questo 0 a 0 contro una squadra di alto rango è un ottimo modo per cominciare ed è un modo molto alla claudio ranieri che ha messo immediatamente la propria mano ha girato qualcosa a livello di squadra ma soprattutto credo che abbia rasserenato l'ambiente abbia abbassato la tensione abbia messo la propria esperienza e abbia schierato una formazione che si è presa un risultato che sa tanto non di ripartenza ma di partenza proprio perché fin qui la samdoria non aveva fatto praticamente nulla se non vincere quella partita con il torino ne aveva perse 6 su 7 adesso inizia il campionato della samdoria e il discorso è quello che facevo per il milan tempo per recuperare ce n'è tempo invece non ce n'è più per andrea soli al genoa il risultato del tardini è oltremodo pesante ed eloquente parma genoa 5 a 1 dopo un risultato del genere e dopo essersi salvato nonostante una sconfitta interna aurelio andrea soli non può pensare di avere continuità sulla panchina rosso blu mi dispiace vi ho parlato più volte del progetto vi ho parlato più volte anche del fatto che a mio modo di vedere andrea soli poteva essere un allenatore giusto per questo tipo di squadra però evidentemente il campo parla in modo diverso ed è un peccato perché io continuo a pensare che il genoa abbia dei valori forse qualcuno è stato non sopravvalutato ma in qualche modo si pensava che potesse dare un impatto un po più immediato invece bisogna crescere bisogna cambiare un po di cose all'interno del genoa però quando si punta anche sui giovani è normale che magari possano esserci delle discontinuità i due attaccanti del genoa sono due attaccanti molto giovani pinamonte entrato alla panchina ha fatto un gol bellissimo un gol dei suoi però fin qui ne ha portati troppo pochi lo stesso vale per qua me è una squadra che adesso vedremo a chi verrà affidata ci sono soluzioni diverse ma è una squadra che ha molte più possibilità di quanto mostrato finora mentre il parma sta mostrando un potenziale veramente interessante si fa male inglese entra cornelius e segna una tripletta dalla panchina kulusevski continua ad essere un fattore è una squadra veramente interessante ed è una squadra che da versa ha trasformato anche questo va sottolineato perché l'anno scorso spesso abbiamo indicato il parma come una squadra che soprattutto nei primi due terzi di campionato poi l'ultimo terzo è stato anche abbastanza negativo sul piano dei risultati però nei primi due terzi faceva risultato ma non piaceva quasi mai una squadra molto solida molto pratica ma anche molto poco estetica direi che ha ricepito questo messaggio da verse direi che anche a lui vanno fatti dei complimenti perché il parma di quest'anno è un parma diverso è un parma che ha cambiato delle cose è un parma che propone di più è un parma più frizzante è un parma che ha dato tre gol al torino ne ha dati cinque al genoa quando hai questo tipo di produzione offensiva vuol dire che sei una squadra che sicuramente propone quindi anche questo è cambiato anche questo è migliorato nella nostra serie a risultato che dà delle conferme al parma e adesso arrivano un paio di partite che possono essere un trampolino possono anche essere degli impegni complicati perché il parma nella prossima sfida l'inter a san siro poi nel turno infrasettimanale apre ricevendo il verona al tardini da seguire questo parma perché al di là di alcune individualità interessanti c'è veramente un cambio di mentalità se parliamo di cambio di mentalità se parliamo di cose interessanti se cambiamo se parliamo di salto in alto allora il nome che dobbiamo stamparci davanti agli occhi in questo momento è quello del cagliari la grande rivelazione di questo avvio cagliari quinto cagliari che ha riabbracciato in pieno anche naingolan autore del gol più bello di giornata e forse sarà uno dei più belli dell'intero campionato perché è una prodezza strepitosa da parte di un giocatore che sta cominciando a ripagare l'affetto la possibilità un giocatore che può fare la differenza ma è tutto il cagliari ad essere qualcosa che può fare la differenza perché è una squadra costruita per giocare bene e questo è sempre un messaggio apprezzabile e guarda caso un messaggio che porta di frutti ed è una squadra molto ben allenata da un allenatore che merita i massimi riconoscimenti maran sta facendo un lavoro strepitoso a cagliari ha del bel materiale lo sta facendo rendere e lo sta rendendo appunto bello il cagliari merita di essere il cagliari è una grande realtà e nella prossima partita il cagliari avrà un bel esame di maturità perché andrà a sfidare invece una delle delusioni di questo avvio non si possono usare termini diversi per il torino torino che ha perso a udine una partita veramente negativa una partita su cui soprattutto nel primo tempo il toro non ha combinato nulla e ancora una volta si ripropone quella cosa che ci diciamo da un po' di tempo il toro quando deve contrastare la partita quando deve reagire alla partita è una squadra molto difficile da colpire il toro quando deve fare la partita è una squadra che ha delle carenze di qualità lo dicono anche i numeri infatti il toro dopo le due vittorie nelle prime due giornate contro sassuolo e atalanta guarda caso due squadre che ti lasciano abbastanza giocare alle quali puoi andare addosso in contropiede ha infilato solo quattro punti nelle successive sei partite e in tre di queste la squadra di mazzarri non ha trovato la porta nonostante un belotti in forma olimpica il toro non segna sua azione da oltre 250 minuti la colpa non può essere del centramanti magari di chi lo accompagna perché zazza al di là di certi momenti non è un fattore e non è ancora un fattore verdi il grande acquisto estivo che fin qui risultato impalpabile anche per lui ci sarà un problema di preparazione ritardata di ambientamento necessario al torino serve come il pane il rientro al cento per cento di iago falche però in questo momento insomma un po di delusione attorno al toro c'è anche se il toro agli stessi punti del minan ad esempio per cui il discorso fatto sulla possibilità di recuperare risultati c'è assolutamente toro cagliari nel prossimo turno sarà un faccia a faccia estremamente indicativo di quelle che potranno essere le outsider per la lotta per l'europa questo è il riassunto neanche troppo riassunto di una grande domenica di serie a che ha aperto quella che sarà una grande settimana perché abbiamo partite pesanti in champions league soprattutto l'impegno del napoli a salisburgo e quello dell'inter con il borussia dormant c'è un super classico in arrivo in coppa libertadores ci sono situazioni in giro per l'europa di cui parlare ci sono sempre le nostre storie da raccontare per cui buona settimana e rimanete qui perché avremo tanti appuntamenti sul nostro canale